Sognando Koulibaly l'Inter nel frattempo si tutela e chiude un affare che va letto sì in ottica futura sicuramente ma non è detto che sia un colpo da valutare fra 1, 2, 3 anni perché è pieno di giocatori che arrivano in Serie A in sordina e si dimostrano subito all'altezza dominando il campionato nel loro reparto ed è pieno, ho anche un grande esempio su un difensore che assomiglia tanto a Jan Bissek ne ho acquisto dell'Inter ma soprattutto Jan Bissek chi è, dove gioca, in che ruolo, come, perché, di chi è figlio, questo non lo so però posso darvi il profilo del giocatore e dirvi come si sa muovere e a chi assomiglia, a che modello guardare per vedere Jan Bissek in campo prima di farlo però iscrivetevi, lasciate tanti like qui sotto e commentate scrivendo anche la vostra opinione allora, opinione personale che vi sbatto subito in faccia non può essere il doposcrignar, non può esserlo al momento perché gli daresti troppe responsabilità è come se tu vai a mandare a lavorare un bambino di 12 anni lo carichi di responsabilità e rischi che ti esplode psicologicamente ecco, non può essere secondo me il doposcrignar proprio per questo perché ha bisogno o meglio potrebbe aver bisogno di tempo non è detto, però potrebbe aver bisogno di un po' di tempo va a Milano per fare al momento la riserva comunque il jolly difensivo perché ora ci arriviamo però serve necessariamente un colpo che possa essere il vero sostituto di scrignar che se arrivasse Koulibaly sarebbe il top perché non ci dimentichiamo che l'Inter quest'anno è arrivata in Champions ha vinto Coppa Italia Supercoppa ed è arrivata anche in finale di Champions senza scrignar quindi comunque se tu prendi Koulibaly Koulibaly, la rosa rispetto a quest'anno fa un upgrade pauroso e in più vai a puntellarla con Jan Bissek Jan Bissek comunque difensore tedesco classe 2000 che a breve giocherà l'Europeo Under 21 con la Germania per chi lo volesse vedere ma come? 2000 uguale 23 anni perché l'Europeo Under 21? perché? perché se tu partecipi questa è una regola che io mi ricordo dai vecchi europei Under 21 se tu partecipi alle qualificazioni agli europei di una categoria puoi giocare fino alla fine anche la competizione stessa pure se sei oltre età nel senso se lui è partito a giocare le qualificazioni che aveva 20 anni quindi era Under 21 può giocare di diritto anche l'Europeo chiusa parentesi è un difensore molto alto molto fisicato molto roccioso è alto 1,95 è bravo bravino con i piedi ha il vizietto del gol e soprattutto è molto d'utile e adesso vi dico a chi secondo me assomiglia anzi ve lo faccio scoprire un difensore tedesco ora gioca in Danimarca fra l'altro un difensore tedesco molto robusto con piedi non male che arriva in Italia chi vi ricorda? in sordina e non è che parliamo di Beckenbauer in sordina a me ricorda uno che aveva un nome italiano e un cognome tedesco Antonio Rudike eh ragazzi è lui secondo me è proprio il modello da vedere per per Iambissek perché è un giocatore Iambissek che sa giocare sia a 3 che a 4 a Larus squadra danese in cui gioca gioca a 3 come centrale proprio come riferimento della difesa a 3 ha giocato a volte anche come mediano addirittura in Germania gioca a 4 gioca come diciamo centrale destro a 4 però può giocare ovunque braccetto a sinistra braccetto a destra in tutti e due ruoli comunque della difesa a 4 può giocare ovviamente come punto di riferimento a 3 è un giocatore molto duttile che va un attimo diciamo va svezzato se così possiamo dire va comunque educato tatticamente a un calcio molto strano molto difensivamente parlando complicato com'è la serie A però per me è un giocatore che può farcela ad esplodere non è detto non è detto e vi ripeto non va caricato di eccessive responsabilità però è uno che comunque il talento l'ha fatto vedere ora sta in zaghi però come alternativa come scommessa è una scommessa io punto diciamo Ausilio Marotta hanno fatto questo ragionamento io punto su Iambissek se questo mi va bene è una plusvalenza sicura ed è un anno in cui lui ti gioca al top se va male so 7 milioni è una riserva lo butti nella mischia schifo non farà comunque meglio di niente quindi secondo me è una scommessa che si può correre può essere che fa come Rudiger può essere che fa come Pogba che era arrivato ruoli differenti ovviamente ma nessuno pensava potesse scalzare un mostro sacro come Marchisio l'ha fatto l'ha fatto Pogba perché Pogba aveva un talento straordinario ecco potrebbe anche essere chi lo sa comunque il tempo ce lo dirà è giovane ma non è un bambino a 23 anni secondo me le carte in regola per esplodere ce le ha ora sta Inzaghi ma sta soprattutto a lui perché l'allenatore deve sfruttare i suoi calciatori che però il loro potenziale devono esprimerlo da soli da soli aiutati sì dal tecnico ma se lui non ha il carattere per farcela Inzaghi può fare poco però occhio a questo giocatore qui 17 giugno 20-23 occhio a Jan Bissek all'Inter e con questo passo e chiudo mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un sacco di like e commentate con la vostra opinione ciao